Noi attraverso i nostri centri giovani e i servizi sociali avremo il compito di segnalare nominativi di giovani dai 14 ai 35 anni che possono essere interessati al progetto. È una vera e propria chiamata alla partecipazione sociale rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni, quella che arriva anche ad Arezzo grazie all'avvio del progetto Spazio Civico di Comunità. Capofila l'associazione Contraerea che è riuscita a figurare tra le vincitrici del bando gestito da Sport e Salute e ottenere un finanziamento pari a 100.000 euro. Si tratta di un progetto che prevede le attività sportive e sono quelle tipiche della Contraerea, quindi le attività circensi che ormai ad Arezzo conosciamo bene grazie appunto all'attività decennale di questa associazione e anche le attività non sportive orientate a combattere il disagio e anche a una formazione scuola-lavoro che possa portare specialmente i giovani NIT e coloro che sono inattivi, che non studiano e non lavorano, a divertirsi con queste attività, a incrementare la propria forma fisica ma anche proprio a trovare uno sbocco lavorativo e occupazionale grazie a questo progetto. Ci crediamo molto, siamo partner soddisfatti di Contraerea e questo bando appunto di Sport e Salute che ringraziamo, siamo insieme alla provincia, ad Oxfam, ad altre associazioni del terzo settore. Ancora una volta il territorio retino dimostra che sa progettare, sa intercettare i fondi. Questa volta il comune è un partner, in altre occasioni il comune è stato finanziato direttamente però fare squadra pubblico e privato con l'interzo settore ancora una volta ad Arezzo funziona ed è una strategia vincente. La sede è a Retina che prende il nome di circostanze e d'incontro e invia a Camillo Golgi 38. Il progetto durerà due anni e sarà aperto a chiunque voglia iscriversi dalla prossima settimana.